La settimana della musica a scuola dei licei musicali e coreutici della Campania quest'anno si svolgerà in modo inedito sul web. La pandemia e l'isolamento non hanno fermato la forza e la determinazione degli studenti, dei docenti e dei dirigenti dei 35 licei musicali e coreutici della regione Campania, che regaleranno a chiunque vorrà collegarsi tante ore di esibizioni musicali, di orchestre scolastiche, gruppi da camera, cori, performance di danza e tante esecuzioni solistiche dal vivo con gli studenti che suoneranno in diretta dalle loro abitazioni. Oggi più che mai la musica unisce anche a distanza in una modalità nuova, dimostrando che la passione e l'amore per un'arte universale non è stata ostacolata dalla realtà incerta in attesa di questo tempo. Ogni giorno dalle ore 16 alle ore 20, a partire da oggi lunedì 25 maggio e fino a sabato 30 maggio incluso, si comincia con i video registrati con la didattica a distanza, poi con le esibizioni dei licei coreutici e a seguire con le dirette live dei giovani allievi dei licei musicali. È prevista anche la presenza di ospiti istituzionali e musicisti di chiara fama che dialogheranno con gli studenti durante le dirette live. Il liceo musicale Gatto di Agropoli sarà in onda martedì 26 maggio alle ore 16 con un video dell'orchestra che eseguirà Health the World e l'overture del Guglielmo Hotel di Rossini. Giovedì 28 maggio alle ore 18 e 30 ci sarà la diretta live di tre studenti della classe quarta del liceo musicale Gatto, Antonia Gresti che eseguirà la chitarra brani di Tarrega e Bach, poi Giovanni Russo con il corno eseguirà uno studio di De Angelis e concluderà il trombonista Lorenzo Manente con uno studio di Bordogni. Per tutte le informazioni e per assistere anche alle dirette sono disponibili i link sul sito del liceo Gatto di Agropoli.